Benvenuti su questo canale YouTube. Oggi parleremo dell'artista Elodie e delle sue recenti dichiarazioni contro alcuni rappresentanti della musica rap e trap. Restate con noi per scoprire cosa ha detto e se questa controversia avrà ulteriori sviluppi. In una recente intervista a Rockhall, Elodie ha espresso apertamente le sue opinioni sulla scena rap e trap contemporanea. Ha dichiarato. Una parte del rap odierno è molto giovane e scadente. Forse vedono l'uomo etero in una maniera un po' vecchia ed emulano un modello americano. Non so. Comunque è utile per capire. Non mi piacciono. Non li comprendo. E non ci collaborerei mai. Queste affermazioni hanno suscitato un dibattito tra i fan e gli appassionati di musica. Molti si chiedono se Elodie approfondirà ulteriormente questa questione e se ci saranno ulteriori sviluppi. Restate sintonizzati per scoprire se la cantante chiarirà ulteriormente le sue opinioni e se questa controversia avrà conseguenze nel mondo della musica. Oltre alle sue opinioni sulla musica, Elodie è stata recentemente al centro dell'attenzione a causa della sua relazione con Andrea Iannone. Dopo una dolorosa rottura con Marrakesh, sembra che Elodie abbia trovato la stabilità e l'amore con il pilota. I fan, gli amici e i colleghi sono curiosi di sapere se questa relazione durerà nel tempo. Al momento, non abbiamo ulteriori dettagli sulla loro storia d'amore. Quindi continuate a seguirci per aggiornamenti futuri. Grazie per averci seguito oggi. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie gossip dal mondo dell'intrattenimento. A presto con ulteriori aggiornamenti.